Continuiamo la nostra caratterolata di incontri di questa sera, qui a Isairo di San Gregorio, con noi già anche Mauro Valdassin, per il Grady Pass. Mauro per te, da Veneto, piombato qui in cuore della campagna ad assaggiare dei vini locati, ma come sta andando? Molto bene, tanto ringrazio anche per l'invito e sinceramente da Tredigiano assaporare i vini non del venuto è comunque un bel piacere e comunque a me piace conoscere tutto quello che non è della mia zona e quindi con molto piacere sono stato questo evento. Il ciclo della cantina è stato molto interessante, anche perché si vede la lavorazione e tutto il lavoro che c'è dietro ha un risultato finale di eccellenza e quindi è bello anche che ci lo stanno facendo nella cantina. Non piace manca di assaggiare un po' di bollicine che dalle parti sono sacre. Dalle parti sono sacre, però va bene anche per loro, va bene anche per altre tipologie di vini sicuramente. Bene, allora visto che il vino è un segnante di prosperità, bocca al lupo per tutti. Grazie. Ciò? 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 Grazie.